Dopodiché la sicurezza non è solo immigrazione, è anche la sicurezza diffusa di tutti i giorni. Allora, i dati di Milano Città. Milano Città, l'anno scorso, 5 mila furti in appartamento in più. Da 100 mila a 105 mila furti su una popolazione di un milione e mezzo. È una roba devastante. 30 mila in più rispetto all'amministrazione di prima di centro-destra. Ora, sono su questi temi concreti che si misura la sensazione di insicurezza dei cittadini, in termini economici e in termini di sicurezza vero e proprio a casa tua.